Andiamo al basso Grazie Andiamo ragazzi Ok ragazzi Voi siete ospiti Testa o uno? Uno Uscite a testa Campo di nuovo Buona partita Buona partita Buona partita Gli 11-2 secondi che vi faccio Veloci Guardate qua in alto tutti Ok vai Grazie Dai raga Dai raga Subito Subito Ne maniamo Buona partita